Mancano tre gare alla fine del campionato regolare e la Cavese si appresta a disputare la penultima partita tra le mura a Miche. L'avversario di turno è la capolista Fidelis Andria. La compagine pugliese, dopo la sconfitta in casa con il Potenza, ha continuato a macinare punti, ma nonostante tutto non è riuscita ancora ad allontanare la minaccia a Taranto, che adesso si trova a sole cinque lunghezze. Mettendo così in discussione fino alla fine le probabilità di vittorie della squadra allenata da Favarin. Per la Cavese invece sarà una gara molto importante, soprattutto in chiave playoff. Un partita difficile, mi auguro che si possa fare il risultato pieno, anche perché abbiamo un solo risultato disponibile se vogliamo ancora ambire i playoff, anche per costringere l'Andria a vincere contro il Bisceglie. In casa, il rammarico è che abbiamo soltanto un risultato contro una grande squadra. L'assenza del capitano De Rosa, di Ausiello e di Ciro Lucchese domenica a Gallipoli si sono fatte sentire, anche se la squadra è riuscita a portare con pieno merito i tre punti a casa. Ci sono due rientri importanti come quelli di Peppa Ausiello e Ciro Lucchese. Flavio Marzullo lo porteremo in panca, ma secondo me lo porteremo veramente per onor di firma. Il ragazzo ci tiene a venire, però non credo che potrà far parte della partita. Il fisioterapista mi ha detto che è pronto per domenica a potenza. Però sono due rientri importanti che mi danno sicuramente anche l'opportunità di poter cambiare a volo la partita, cosa che non è stata fatta domenica. Abbiamo iniziato e è finito in una sola maniera. Di questo devo ringraziare i ragazzi. Eravamo in grande emergenza e hanno tirato fuori una grande prestazione. Con Ciro Lucchese e Peppe abbiamo qualche soluzione in più chiaramente. Luigi Palumbo, domenica a Gallipoli, la Cavese ha ritrovato la grinta e l'autostima che serviva in trasferta. Sì, finalmente dopo qualche turno fuori casa senza fare i punti siamo riusciti a fare questa bellissima e difficilissima vittoria per riportare i tre punti esterni a casa finalmente. Sicuramente non sarà una partita semplice ma dal girone di ritorno abbiamo subito detto che ogni partita sarebbe stata una finale, sarebbe stata difficile, quindi o viene l'Andrea o viene un'altra squadra da prendere con le pinze e con la concentrazione giusta. Sicuramente un occhio particolare alla capolista perché è prima in classifica e meritatamente. Scenderemo in campo col piglio giusto e faremo del nostro meglio.